in questo video come vi sono in descrizione oggi siamo su un video molto speciale per il canale difatti oggi vi farò vedere come si usa la mia Vespa 50pkxl del 1998 devi iniziare su Instagram giustamente Facebook di console.it 5 ore per il prossimo video e niente ora passiamo sulla Vespa la Vespa in questione è questa il Vespa 50xl l'ho modificata esibitamente un po' come stai facendo caso e questa va a marce e funziona con il patentino del 50 o se no si fa il culo della macchina e si è già compreso il 50 o se no il 125 e si può anche guidare sia il 50 che il 125 e niente qua vedete a sinistra ci sono le 4 marce qua è in folle e quindi non può andare avanti quando si mette in moto si parte con la prima, qua si va in seconda, in terza e in quarta quando si è preso un po' più di velocità si va in terza e ancora un po' più in quarta qua c'è la freccia come vedete qua è a sinistra e qua è a destra e ora è spenta comunque poi qua gli abbaglianti le luci normali il clacson poi qua sotto c'è quello la benzina e ricordatevi sempre io mi sono dimenticato di chiudere l'aria comunque ricordate voi che quando non la usate dovete chiudere assolutamente l'aria l'aria che se no la vespa si incolpa e poi porto le vespa perché poi sta tipo mezz'ora ad accendersi e ora vi faccio vedere come si accende una vespa vedete qua è scritto ok mi metto fuoco poi si off qua sono in blocco sterzo è una sicurezza per lo sterzo in più qua off che se si accende non si mette in moto e on che mette in moto ricordatevi sempre di aprire l'aria qua l'aria qua e mettere in A così poi si accelera con il pedalino dietro ed è un lavoro molto facile cioè è molto facile da usarla anche non pretendete con essere una velocità super elevata però per un qualcosa per un mezzo senza che i genitori ci portano ovunque basta e avanza e niente spero che questo video vi sia piaciuto come del tempo precedente trama 5 like se avete su instagram giusto ma il facebook luca giusto arrivederci a tutti al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti